Ciao, oggi faremo un video bellissimo! Faremo la verticale di impostazione più lenta del mondo. L'abbiamo già fatta Nicole, Giada e Letizia. Adesso mi sembra che aveva vinto Giada. Ecco, adesso che siamo in tante, la rifacciamo e vediamo se riusciamo a battere il record di Giada che non mi ricordo più quanti secondi erano. Ok, quindi venti secondi. Attenzione, si sale ma non si può fare pause. Quindi se salite lentissime e fate una pausa vi stoppo, non vale. Ok, deve essere lenti, lenta, 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 lenta a salire, lenta, lenta, lenta a scendere ma senza pause. Avete due tentativi, ok? Andiamo. Parte Irene. Mi raccomando, volete provare una volta tutte quante? Provate una volta. Lenta, 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 non puoi fermarti, eh? Lenta, 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 non puoi fermare. Provate tutte una volta. Ecco, fatti, ti avrei già fermato, eh? Non potete fermarvi, ok? Lentissime ma sempre in movimento. E Mina, guarda che ti avrei fermato. Lentissime ma sempre in movimento, ok? Ottimo. Partiamo Irene, sei pronta? Hai bisogno di respirare ancora un po'? Vai, quando vuoi. Vai, quando vuoi. Stop. Ti sei fermata. Ok? È difficile, eh? Quindi devi andare pianissimo, ma non ti devi fermare. Va bene? E Mina, vieni un po' più avanti che lo fai tu, intanto lei riposa. Va bene lì, eh? Sì, vieni un po' più avanti. Ok, prova tu. Bene le gambe dure. Ok, purtroppo ti sei fermata. Anche quando salivi ti sei fermata un pochino, eh? Ok? Ma poi è un altro tentativo. Va lì, Irene, stai pure lì. Vieni un po' più avanti, Irene. Ok, vai. Allora, non ti puoi fermare. Ragazzi, aiutatemi a guardare se si ferma, eh. Ok. Non capisci? No, non capisco. Bravo. Vai. Ah, peccato, Irene, ti sei fermata. Andava bene fino a lì, eh? Brava. E Mina, corri qua, dai avanti. Vai. Pianissimo, ma non ti puoi fermare. 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 Ok. Quanto tempo? 14,47 secondi. 14,47 secondi, bravissima. Questo esercizio si può fare quando si ha una buonissima conoscenza della verticale impostazione. Ok? Vieni, Erika. Vieni, vieni proprio avanti. Dai, che ti piace. Quando l'abbiamo fatto con la Giada, eh, hai visto il video e tu voglio farlo anch'io. Dai, vediamo adesso. Adesso è il tuo momento. Ah. Ah, ah, ah. Pausa. Eh, sì, invece no, bisogna continuare piano, 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 ma senza pausa. Hai un'altra prova, vuoi farla adesso o vuoi riposare? Riposa. Riposa. Faddi, vieni, corri. Più avanti. Ok, dai. Pianissimo, ma senza pausa. Non solo ti sei fermata, ma hai anche mosso le mani. Erika. Aspetta. No, va bene, faccio io. Piano, Erika, piano, piano. No, peccato. No, peccato. Devi lavorare ancora un po' di più le verticale impostazioni. Alessia, vieni. Vieni, vieni, vieni. Ok, vai. Allora, gambe durissime, punte dure. Vai. Ti sei fermata, Ale. Ti sei accorta qua, quando levi le gambe qua, ti sei, hai fatto due volte così, ok? Respiri un attimino e lo fai un'altra volta. Vuoi farlo subito o aspetti? Aspetti. Bea! Ed ecco pronta Bea. Brava, si è fermata all'inizio? Bravissima, quanto? 14.06 per pochissimo, brava. Ale, vieni. Perché chi è che aveva fatto 14.40? Lemmina. Alessia. È disinfermata. Va bene, dai. Devi allenare ancora la verticale impostazione. Alla prossima. Giadi. Perché non è che ti chiede di risonire? Giadi. La Bea ha già fatto... La Bea ha fatto... Ne ha già fatto... Ma non c'è uno, non c'è uno, non c'è uno, non c'è uno, non c'è uno. Basta o è un'altra? Allora, Bea, il secondo tentativo. Stop, Bea, sei fermata. Ti sei fermata. Ti sei fermata. Adesso va Giadi e si prepara Letizia. Cosa c'è, Irene? Giadi. Sei pronta? Vediamo se superi il tuo record. Dopo andiamo a vedere bene com'era, qual'era. Mi sembra 22, tipo. Non è sempre 22, non è sempre 21 qualcosa. Io so quello d'altro, quando l'ho fatto poi da te. Dove ho mangiato. E' per l'altro. Vai Giadi. Nooo! Respira. Ma tu Emma l'hai già fatto? Ed ecco pronta Emma. Emma, tua sorella non ce l'ha fatta, eh. Vai. Lo so, lo so. Adesso vai tu, poi va la Letizia. Sei pronta Emma? Vuoi scherzare o... No, perché è po' di tenere. Ok. Hai bisogno di scaldarti? No. No. No, Emma! Peccato! Pronta Letizia? grande 20 e 37 20 e 37 Vai Leti la seconda volta Grande 25 e 55 per Leti Pronta Giadi Pronta Giadi Pronta Giadi Pronta Giadi Pronta Giadi Pronta Giadi Emma dai puoi batterla Vai Questo è il secondo tentativo Vai Mickey pronta tu eh O forse è meglio che lo fai tu Così almeno dopo riposi Erika prendi il cronometro Micole Nooo La pausa Emma Dai Emma E' vero C'è la ricetta Eh 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 Non è che si è fatto la pausa Ho sdormito proprio Ti sei dormentata Ma che stavo salendo Ah ok Mickey Dai Mickey Vince questa sfida delle verticali più lente del mondo Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto Aspetta perché mi sei un po' troppo vicina Ecco sì No 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 Mero io che Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Lasciate tanti like E ricordatevi di attivare la campanella Così vi arriveranno le notifiche dei nuovi video Ciao 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 Ciao